Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per il vento forte in A1 tra Sassomarconi e Fabro e sulla variante di Valico, in A11 e in FIPILI lungo tutto il percorso, in A12 tra Pisacentro e Rosignano e in A15 tra Berceto e l'allacciamento Polla 12. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Porrettana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!